L'Ucraina vuole un cronoprogramma per la restituzione della regione del Donbass, annessa da Mosca nel 2014. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha anticipato martedì ai giornalisti e intende portare la richiesta al Vertice A4 che si trarà il 9 dicembre a Parigi. Sarà il primo faccia a faccia tra Zelensky e Vladimir Putin con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel a fare da garanti. Voglio parlare della liberazione del Donbass con delle scadenze chiare di quando la nostra gente potrà tornare a casa. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov lunedì ha ribadito la posizione di Mosca che rimane ancorata agli accordi di Minsk del 2014-2015 che prevedono uno status di autonomia per il Donbass, elezioni locali, amnistia per i ribelli. Contiamo sui nostri omologhi francesi come ospiti del Vertice per liberare il campo da ogni ambiguità perché si ribadisca che non ci sono alternative alle intese raggiunte. Il conflitto nel Donbass, durato 5 anni, ha registrato almeno 13.000 vittime. La fine del conflitto nell'Ucraina orientale è stata legata da Emmanuel Macron ad una possibile riammissione della Russia nel G8.